Amici di Corsa di MotoTV, siamo al Cremona Circuit con me Alessandro Crevarolo, amministratore unico del circuito. Ciao Ale! Ciao, ciao, ciao! Allora, la notizia Superbike Cremona, ormai la sapete tutti, tra manco pochi mesi stanno lavorando. Questo argomento direi che l'avete perfettamente già sviscerato, ma quello che interessa a me, perché io sfruculio sui social, vedo tanti appassionati che vogliono venire. Allora sai, i leoni da tastiera, ma dove è il parcheggio? Oddio, Cremona! Allora, andiamo per punti, perché chi meglio di te può spiegare. Parcheggi, Alessandro, sì, vediamo tanti prati, però dove si parcheggerà, come sono disposti, quali sono insomma tutte le condizioni che il pubblico deve sapere per poter venire tranquillamente in macchina? Allora, partiamo che Cremona Circuit fortunatamente non ha una strada di arrivo, ma ne ha tre. C'è la direttiva di Cremona, la direttiva di Parma e la direttiva dell'Augo di Garda. Dopo ce n'è una quarta, che è quella un po' più piccola, che sarebbe la strada di backup. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che quando la gente arriverà potrà arrivare molto vicino all'autodromo, parcheggiare nelle aree che abbiamo dedicato, che sono delle aree molto importanti, circa 100.000 metri quadri a ogni parcheggio, la lontananza massima è 600 metri e gratuiti, perché è il primo anno, vogliamo dare qualcosa in più ai nostri clienti, al pubblico e far sì di capire, anche essendo una realtà nuova, capire come si muove il pubblico del superbike. Quindi praticamente la gente, quella che arriverà da Cremona troverà un parcheggio, quella che arriverà da Parma troverà un altro parcheggio e quella che arriverà dal Lago di Garda, da Verona, troverà un altro parcheggio, 500 metri massimo di distanza e se adentro in autodromo. Allora, sottolineiamo i due aspetti, se vi va male, 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 fate 600 metri a piedi, che adesso voglio dire, a Mugello sapete che insomma c'è da scarpi in apparecchio, e la seconda cosa molto interessante che hai detto tu, gratuiti, quindi non c'è quello che è il parcheggio, il giardino da me è 30 euro, qui i posti ci sono e quindi direi già che macchino-moto venite sereni. Guardavamo ieri insieme il circuito, allora io dicevo, ma tribune, e tu mi hai detto, guarda, fil, tribune, vengono lì, lì e lì, da Tota. Allora, dove sorgono le tribune, quanta capienza ci sarà e soprattutto, una cosa interessante, come saranno collegate tra di loro le zone che ospetteranno le tribune? Allora, la conformazione del nostro circuito non ci ha dato tanta libertà, mettiamola così, e abbiamo sfruttato quello che abbiamo. Quello ci ha portato a studiare una location per gli spettatori che è un po' inusuale, perché? Perché le tribune, nel nostro caso, sono all'interno del circuito. Diciamo che ogni persona che viene a vedere la superbike, probabilmente, vedrà dalle due alle tre parti del circuito, quindi non si annoia a vedere solo una curva, solo un pezzo di rettilineo. Le tribune sono all'interno del circuito, ci sono due, tre zone principali, che uno è il Prato, una è la fanzone 1, la uno è la fanzone 2. E queste aree hanno, mediamente, una capienza di 7.000, 7.000, 6.000, 5.000 persone per area. Le tribune sono state pensate nelle zone, mi dice l'Alessandro, in tenne. Quali sono le zone in tenne? Quelle che di solito, quando venite a Cremona, o se non siete benvenuti, ve lo spiego io, quelle che non potreste raggiungere se non armati di passe da operatori, fotografi. Invece, con un sistema molto interessante di ponti che viene costruito in questi giorni, praticamente uno passerà da una zona all'altra scavalcando il circuito. Sì, corretto, abbiamo commissionato, li stanno montando in questo periodo, tre ponti, molto lunghi, quello più lungo 80 metri, 80, 60 e 45 metri, e questo permetterà a tutti gli spettatori di passare da una zona all'altra, che è in possesso del pass corretto, ma per esempio quelli del Prato possono andare dentro la zona 2, perché all'interno della zona 2 c'è tutta la parte del food, e di poter girare in quasi tutta l'area del circuito, quindi in una giornata, perché sappiamo che la Superbike non è una partita di calcio che dura due ore, bensì dura sei ore, otto ore, tutto l'intero, l'iter del programma della Superbike, ha la possibilità di poter spostarsi un po' dove vuole. Detto questo, c'è poi la cosiddetta amatissima dagli appassionati del motorsport, zona Prato. Qual è la zona Prato? A Imola, no, lo sapete, Piratella Tosa, circolare, cioè tu dove arrivi, stai. Allora, la zona Prato qui è stata quella, credo, la più importante, è stata individuata nel rettilino di 800 erottimetri, cioè il classico rettilino lungo di Cremona. 900. No, 885 direi. Sono 900. Va bene, sono 900. Insomma, è... Ogni anno continuano a tirar via dei metri, non ho ben capito, comunque, sono 900 metri. Comunque, è un anfiteatro naturale, lungo 900 metri, dove la gente col biglietto Prato potrà comunque se passi a vedere, credo, tra l'altro uno dei punti, no? La velocità, le staccate, quindi un bel punto. No, no, il Prato per assurdo è una delle posizioni dove si può vedere gran parte della pista, perché, perché, come dicevo prima, il nostro circuito, essendo contenuto, ti dà la possibilità di vedere più parti della pista. Uno che va nell'ultima parte del Prato può vedere la curva 7, la curva 8, la curva 9, il rettilineo principale, cioè, diciamo che non si annoia. Diciamo che forse, mai come questa volta, il pubblico non abbisognerà dei maxischemi, lo sai, no? Nei circuiti come Mugello, Imola, se non c'è il maxischermo, dici tu, vedi una curva e poi il resto o te lo immagini o c'è il maxischermo. Qui si vede veramente tanto e anche da questa, dal building principale, guardavo ieri, dalla tribuna, quella che è sempre, diciamo, esistita, tra virgolette, si vede un sacco di circuiti e anche in questa tribuna, per il pubblico, come dicevi, comunque metterete i sedili, cioè, anche lì un make-up. Beh, la tribuna, quella esistente del Carmona Circle, quella che abbiamo fatto nell'ampiamento 2021, tiene circa 600 posti a sedere. Questa è considerata l'area VIP perché ci vanno le autorità, ci vanno parte della Dorna, parte degli ospiti della Dorna, parte dei nostri ospiti, è una parte di pubblico che vuole avere determinati privilegi, mettiamola così. E questo, comunque, fa sì che, dalla tribuna, ma come questa, ma anche le altre, diciamo che uno spettatore segue quasi in tempo reale tutta la pista, cioè, vede tutta la gara in tempo reale. E tra l'altro, non solo la vedi in tempo reale, concedimi questa cosa, Ale, visto che i circuiti un po' ne ho girati, cioè, le posizioni, pensate per il pubblico, tribuna, parte dei ciro, sono molto vicine alla pista, perché sai, finché si va a vedere le macchine, le macchine sono belle grosse, ma le moto, per dire, no, noi siamo abituati a Mugello, Misano, la motoretta dal prato alla tribuna, è un po' piccolina, invece qui si è molto più vicini all'azione. Eh, ma questo è dovuto al fatto che le tribune sono all'interno, di solito cosa succede? Le tribune sono all'esterno del circuito, quindi c'è la pista, la via di fuga, la strada di servizio e dopo ci sono le tribune. Noi cosa abbiamo invece? La pista, che è la via di fuga dall'altra parte e di conseguenza cosa succede? Che il guardrail e la strada di servizio sono molto più vicine alla pista e la tribuna è subito adiacente. Le tangenti di uscita, perché magari qualcuno dice, eh, siamo vicini, è pericoloso. No. Le tangenti di uscita delle moto sono dalla parte opposta, quindi difficilmente, è quasi impossibile, vanno dall'altra parte. E comunque ve li vedete vicini che non fa mai male, quando si torna a casa, magari anche le prime volte che venite, tornate a casa con la sensazione di averli potuti toccare. La superbike, lo sapete, quando si vince, non si va più, eh, si va nel paddock live show. Ecco, dove sarà questa zona, Ale? Allora, il paddock odierno, il paddock è quello che ospiterà tutta la superbike, tutte le hospitality, tranquillizzo tutti che ci hanno tutti messi a suo agio, il planning è già stato fatto, non è che il giorno della superbike non sappiamo dove mettere, il planning è già stato fatto e tutto. Il paddock show viene realizzato all'interno del cartodromo, che tutta quell'area che di solito non si, cioè, è dedicata ai kart, tutta quell'area viene dedicata al paddock show. Questo ci ha permesso di fare un paddock show abbastanza importante. Che è quell'area che vedete alle nostre spalle e che vedete inquadrata adesso. Allora, diciamo che siamo a tre mesi più o meno, adesso è fine maggio, beh, sì. Sì, ma immagino, poi avete avuto un po' di brutto tempo, diciamo, quali sono i lavori più impellenti che state chiudendo in vista di questa premiere della superbike? Allora, va bene, stiamo predisponendo tutte le aree per il pubblico, con le reti di sicurezza, con la rete per il pubblico. L'aggiornamento di tutta l'infrastruttura a livello sia di potenza di corrente, infrastrutture tipo la fibra e quant'altro, perché comunque stiamo parlando del mondiale superbike, ha delle esigenze che sono totalmente diverse da quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi. Stiamo, verrà realizzata, penso, nel giro di un mese, la palazzina nuova Race Control, che è quella che accoglierà sia il cronometraggio che gli uffici della direzione gara e la Race Control nuova. E dopo penso che possa bastare, per il primo anno in sei mesi di lavori. Mi dicevi che il contratto è per cinque anni, quindi comunque sono lavori, sì, che state facendo importanti, anche perché economicamente sono lavori molto importanti, però poi verranno spalmati su questo cinque anni. No, per cinque anni il mondiale superbike farà tappa qui a Cremona, ma io so già che tu per la domenica sera, la gara, diciamo, finito tutto, per un po', ti prendi un po' di riposino, eh? E provo a prendermi due settimane. Il minimo sindacale di settimane. No, 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 a parte gli scherzi, allora, l'investimento che stiamo facendo non finisce quest'anno, bensì è pianificato su due anni, perché ci sono altri investimenti che abbiamo pianificato. L'investimento naturalmente viene dilazionato nei cinque anni che ospiteremo la Superbike, perché l'investimento che andiamo a sopportare, che abbiamo pianificato, non puoi, cioè, in un anno non sarebbe stato logico, finanziariamente sarebbe stato un suicidio. Ma neanche con la Formula 1 si può assorbire questo investimento. In cinque anni, se siamo bravi, potremmo anche, diciamo, trarre qualche profitto. No, profitto no, però, diciamo, rimetterci a zero. Andare al famoso break-even. L'ultima cosa, abbiamo parlato in pubblico, avete sicuramente pensato nella vostra testa un risultato numerico che dovrebbe mandarvi a dormire soli tranquilli, quella famosa domenica sera del dopo Superbike. Quanto vi aspettate e qual è il numero che vi renderebbe soddisfatti? Allora, partiamo che l'impianto può ospitare al massimo 20.000 persone. Quindi già fare 20.000 persone la domenica, 20.000 persone il sabato, sarebbe per noi già una soddisfazione, perché comunque, essendo il primo anno, non avendo mai affrontato questo tipo di evento, saremo contenti. Il venerdì, invece, c'è una giornata che viene venduta a un prezzo molto più basso e dà la possibilità a tutti gli spettatori di poter girare qualsiasi area, non c'è differenziazione di tribuna, non tribuna, prato, quindi il venerdì che ci sono le prove libere, se ci aspettiamo comunque un notevole afflusso di persone, ma perché? Perché si vede la Superbike in maniera diversa, ovvero si può girare, non c'è lo stress della gara, si vanno a vedere i piloti, magari ci sono la sessione delle autografi, si vede la pista, qualcuno che non ha mai visto Cremona Silvi, ha la possibilità di girarsela tutta, perché in quel caso lì ci sarà praticamente proprio un percorso che la gente può farsi tutto il giro. Diciamo che se arriviamo ai 50 faremo i salti mortali. Allora, con i 50.000 che Alessandro si auspica per questo primo weekend dei 5 che poi si girano negli anni qui a Cremona, Ali, complimenti per il lavoro, adesso aspettiamo settembre e poi vedremo che spettacolo andrà in scena. Adesso dobbiamo solo incrociare le dita che il meteo si metta un po' a posto, perché ci ha reso la vita un po' difficile e se è continuo diventa complicata, però insomma, prima o poi il sole torna, anche oggi. Non può più avere per sempre, diceva la famosa fina. No, adesso abbiamo settimana, in questa settimana abbiamo i test da Superbike, così avremo anche il risponso da parte dei piloti dell'ultima modifica che abbiamo fatto sulla pista. Guarda l'ultimo tratto. Sì, l'ultimo tratto che ad oggi abbiamo avuto un bel risponso da tutti i piloti, compresi quelli del Moto Estate, ma anche di qualche pilota da Superbike che dalla versione vecchia, che era molto tortuoso, in questa versione è molto più veloce. Poi abbiamo messo qualche saliscendi, è carino. Bocca al lupo. Creppi.